Poiché lo Stato ha il dovere di porre in essere tutte le misure necessarie per garantire che il diritto alla salute sia effettivo e possa trovare concreta realizzazione, è necessario che la Regione Abruzzo intervenga a garantire un corretto funzionamento del servizio sanitario presso il nosocomio sulmonese. Lo scrive il Tribunale per i diritti del malato per il tramite del suo coordinatore Catia Puglielli che diffida la Regione Abruzzo ad attivare immediatamente le procedure concursuali per impiazzare il posto da responsabile al pronto soccorso dell'ospedale di Sulmona dopo la cessazione del rapporto di lavoro della dottoressa Maria Grazia Maiorano che è stata collocata a riposo per raggiunti limiti d'età. L'Aslo 1 sta procedendo quindi alla nomina del responsabile protempore in attesa di via libera della Regione per indire concorso ma è questo modus operandi che al TDM non va giù, le procedure concursuali devono essere attivate per tempo, al pronto soccorso la carenza di personale è arrivata ai massimi storici, al momento sono in servizio solo sei medici su una pianta organica che ne dovrebbe contenere dodici, esattamente il doppio come pure mancano all'appello diversi infermieri. Nella mappa delle carenze rientra il reparto di oncologia con una sola unità in servizio e un'altra che da manforte per dieci ore settimanali, il reparto di pediatria e medicina. A ortopedia fra non molto il direttore andrà in menzione mentre le liste d'attesa restano lunghe, insomma servono interventi urgenti per rilanciare la sanità e non solo con le chiacchiere. La salute non è un diritto che può attendere i tempi della burocrazia ed è necessario che lo Stato sia presente a garantire l'effettiva realizzazione di questo diritto. L'ospedale deve essere gestito al fine di poter garantire a tutti la possibilità di accedere tempestivamente per essere curati. Ne consegue che nel momento in cui un medico sta andando in pensione l'azienda sanitaria si attivi immediatamente affinché venga garantito l'immediata sostituzione. Non è un problema del cittadino, è un problema dell'azienda sanitaria e poiché l'azienda sanitaria risponde alla regione Abruzzo noi pretendiamo un corretto controllo della gestione e prima di tutto che venga immediatamente nominato un direttore generale che faccia i dovuti controlli attivi le misure necessarie per garantire questo sacrosanto diritto. Da qui la diffida presentata alla regione che come ha annunciato la Lega sul Mone in una nota sta mettendo mano proprio al concorso del pronto soccorso ma intanto la responsabile è andata in pensione e il reparto continua a soffrire la carenza di personale.